Mi dissocio anche perché non conosco queste persone, non sono miei clienti, non so se sono mai venuti qui, non so assolutamente niente. Capisco e rispetto il lavoro delle forze dell'ordine, non mi permetterei mai di comportarmi in questo modo e non ho piacere che il mio locale venga associato a questo tipo di comportamento. E mi è dispiaciuto moltissimo vedere la mia immagine, l'immagine di mia figlia, del mio locale che veniva abbinata a questo comportamento di queste persone allucinanti. Così Stefania Reginato dopo il servizio dello scorso 29 marzo in cui abbiamo parlato del comportamento indegno di quattro individui che sui social hanno offeso e minacciato anche di morte gli agenti del commissariato di polizia di Bassano intervenuti in occasione della manifestazione Io apro, cui aveva aderito la titolare del locale di via Quarta Armata. A lei fa eco illegale che la sta seguendo l'avvocato Boris Ventura. Era per noi molto importante dissociarci appunto da qualsiasi forma di violenza anche solo verbale nel senso che ovviamente noi non siamo in contrasto con le forze dell'ordine. Noi rivendichiamo solo e semplicemente dei diritti che riteniamo siano inalienabili. Reginato esprime la difficoltà che sta incontrando come tutto il mondo della ristorazione, dei bar, dei ristoranti in questo momento terribile. Lo Stato ci viene contro assolutamente. Io invito anche i miei colleghi a ragionare su questa cosa qui perché non possiamo andare avanti così. Non si può togliere il lavoro alle persone e togliere la dignità. Basta. L'avvocato Ventura vuole fare una puntualizzazione per quanto concerne una sanzione che sarebbe stata combinata a Reginato ancora mai ricevuta. Ad oggi le forze dell'ordine non hanno combinato al locale, a Stefania, alla figlia alcuna sanzione per fatti relativi al mese di marzo del 2021 ragion per cui ogni informazione in questo senso al momento non è corretta.